Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Lorella Cuccarini è uno dei volti televisivi più amati in assoluto dai telespettatori Di recente ha stupito i suoi numerosi fan con una cambiamento di look incredibile Punto la nota Shogherl ha conquistato il pubblico fin dai suoi esordi con la sua energia strabiliante Un artista a 360 gradi che ha stupito con la danza ma ha poi intrapreso molti ruoli differenti nel corso degli anni Lorella Cuccarini non ha di certo bisogno di presentazioni ma la sua carriera parla da sé Una donna piena di energia e passione che ha attirato il consenso del pubblico e della critica Di recente ha lasciato senza parole i fan che hanno notato un cambiamento di look incredibile e inatteso Voi l'avete vista? Lorella Cuccarini e il cambiamento di look Lorella Cuccarini ha iniziato a studiare danza all'età di 9 anni Fin da piccolissima ha mostrato passione per il ballo e ci si è dedicata con il massimo impegno Il suo maestro è stato Enzo Paolo Turchi che insegnava nella scuola che ha iniziato a frequentare da bambina Il suo talento l'ha portata ad esordire a 12 anni proprio in un programma dove il suo maestro era primo ballerino condotto da Raffaella Carrà Dopodiché ha fatto il suo esordio nel format fantastico e da quel momento la sua carriera è decollata Gli anni 90 sono stati quelli che l'hanno consacrata tra i grandi voti della tv italiana Impossibile dimenticarla al fianco di Marco Colombro a Buona Domenica e Paperissima Un talento che l'ha portata anche a diventare una star del teatro al quale è sempre stata molto legata Non va di sicuro messa in secondo piano la sua carriera televisiva più recente ovvero la partecipazione come maestra al talent Amici La De Filippi l'ha voluta fortemente e il pubblico l'ha apprezzata moltissimo nel suo ruolo Abituati a vederla sempre spumeggiante, in perfetta forma e soprattutto biondissima quando è apparsa la foto del recente e drastico cambiamento di look I fan ne sono impazziti Lorella Cuccarini si è mostrata diversissima. L'avete vista? Drastico cambiamento.Lorella Cuccarini ha un seguito davvero numeroso di fan che la seguono con interesse sul web Il recente cambiamento di look ha lasciato senza parole il web Tutti noi abbiamo l'immagine della showgirl con la lunga chioma bionda ma ora è apparsa diversa La prof di Amici infatti ha cambiato look e non è più bionda ma more Non si tratta però di un cambiamento definitivo ma di un cambiamento temporaneo causato dal lavoro La showgirl infatti sta recitando nel musical Rapunzel dove interpreta Goten Nessun colpo di testa quindi per Lorella Cuccarini che ha cambiato e stravolto il suo look soltanto per questa esperienza lavorativa Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video